I Santi sono una moltitudine di testimoni che hanno conosciuto le nostre stesse fatiche e vivono per sempre nell'abbraccio di Dio. All'udienza generale, Papa Francesco ha riflettuto sul tema I Santi, Testimoni e Compagni di Speranza, precisando anzitutto che la loro esistenza rivela che la vita cristiana non è un ideale irraggiungibile. I Santi ci sono sempre vicini, la loro invocazione segna il cammino della vita cristiana, soprattutto in momenti importanti, quale la scelta del matrimonio. Fare un passo del genere, ha detto il Pontefice, è una scelta per sempre, non mentre dura l'amore, altrimenti è meglio non sposarsi. Qualcuno di voi potrà domandarmi, ma padre si può essere santo nella vita di tutti i giorni? Sì, si può. Ma questo significa che dobbiamo pregare tutta la giornata? No! No! Quello significa che tu devi fare il tuo dovere tutta la giornata. Pregare, andare al lavoro, custodire i figli. Ma farlo tutto col cuore aperto verso Dio, con questa voglia che quel lavoro, anche nella malattia, quella sofferenza, anche nelle difficoltà, quelle difficoltà, siano aperte a Dio. E così diventeremo santi. Si può. Che il Signore ci dia la speranza di essere santi. Ma non possiamo. Noi pensiamo che è una cosa difficile, che è più facile essere delinquente di santi. No! Essere santi si può perché? Perché ci aiuta il Signore. Grazie. 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 Grazie.